Arquata del Tronto Ai piedi del Monte Vettore, il comune di Arquata del Tronto, immersa in una cornice di paesaggi alpestri e verdi vallate, godi di una singolare posizione geografica, all'incrocio di Marche, Abruzzo e Lazio. È l'unico comune d'Europa racchiuso all'interno di due aree naturali protette, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga a sud e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini a nord. Il centro urbano è stato costruito a cavallo di un'altura nella zona dell'Alta Valle del Tronto, lungo il versante sinistro dell'omonimo fiume che attraversa la zona, alle falde delle montagne che lo circondano, tra il corso stesso del fiume e il fosso di Camartina. Il paese dista circa 30 chilometri dal capoluogo Ascoli Piceno, 55 chilometri dall'Adriatico e 30 chilometri da Norcia. La città fortezza di Arquata, compatta ed austera, si erge col suo castello medievale nel bel mezzo di una terra ricca e selvaggia, che da sempre ha destato fantasie, sogni e speranze. Le prime notizie certe e documentate su Arquata si trovano nel periodo dell'Alto Medioevo, quando nel VI secolo era definita terra summantina. Ulteriore e successivo riferimento storico è fornito dall'invasione del popolo longobardo, che giunse fino a Spelonga, dove forse esisteva un castrum. Ne ricompare la citazione nella cronaca del viaggio intrapreso da Carlo Magno, che nell'Ottocento attraversò questi luoghi per recarsi a Roma, in occasione della sua incoronazione.